Ciao amica fashionista, bentornata su StyleZone. Bando alle ciance e bando agli indugi. Staremo poco su questo video perché è primavera, abbiamo tutte una gran voglia di uscire e di stare all'aperto. E diciamoci la verità, un po' di voglia di shopping compulsivo? Sì, dai, ammettilo, anche tu ti dai allo shopping compulsivo e non puoi proprio resistere. Sì, allo shopping terapeutico compulsivo, però oculato. E cioè, e cioè ti voglio dare una piccola veloce guida sui negozi che puoi trovare in ogni città, quindi anche nella tua città. Sono grandi catene di franchising che hanno già messo in saldo dei capi che sono perfetti per l'estate. Dove trovarli? Ma prima, se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanellina sotto e iscriviti al canale. Ed ora siamo pronte per intraprendere un viaggio attraverso i negozi della tua città che hanno già messo in saldo capi per la primavera e per l'estate. Partiamo? Se stai facendo un giretto per la tua città, ti consiglio per primo di fermarti da Stradivarius. Stradivarius ha già messo in saldo una marea di capi estivi che potrai acquistare ad un costo massimo, massimo di 30 euro per le scarpe, mentre i capi si aggirano dagli 11, 12, 17, massimo 20 euro. E potrai trovare, eccoli, tantissimi cardigan, micro cardigan, crop top, camice con il wall, blazer, pantaloni in lino, completi blazer, pantaloni, tanti vestitini morbidi dalla stampa floreale oppure dalla stampa optica che sono perfetti in questa stagione. Troverai anche sneakers, troverai anche molti sandali, slingback o sabon. Stradivarius ha messo questi articoli che vedi, qui, scorrere, tra cui appunto pantaloni, giacche, vestiti, con lo sconto del 30, del 40, del 25% e quindi i prezzi sono davvero, davvero accessibili a tutte le tasche. Potrai rinnovarti il guardaroba per l'estate spendendo pochissimo. Vai sul sito di Stradivarius e ti metto il link sotto nelle descrizioni e dai un'occhiata agli articoli che ti piacciono di più e accaparrateli subito prima che diventi una sold out. Alcuni capi, infatti, purtroppo già lo sono. Secondo negozio da non mancare che trovi in ogni città d'Italia è Calliope. Io adoro Calliope, ci vado spesso. Questo micro blazer lo trovi proprio da Calliope, così come anche i jeans che porto sotto e fa parte dei capi messi nella collezione dei super saldi estivi, ovvero i capi di mezza stagione anche con uno sfonto del 50%. La collezione mid-season di Calliope con lo sfonto del 50% è davvero, davvero variegata. Trovi di tutto. Dai blazer abbinati in coordinato ai pantaloni, che puoi anche spezzare e abbinare tra loro, colori gourmet come il rosa, come il verde, oppure colori in toni basici come il bianco, come il beige, una vasta collezione di camicie di ogni foggia, dal tessuto semitrasparente con wall, alle camicie un pochino più aderenti, a quelle lucide, in saten, dai colori più sgargianti fino alle stampe floreali o le stampe optica. Puoi trovare tantissimi pantaloni flare, anche pantaloni e completi sportivi, quindi dei pantaloni aderenti flare, quindi leggermente scampanati oppure aderenti, micro top, crop top, dei body fantastici a stampa pitonata nel rosa, body e abiti ad effetto bustier in tessuto wall, quindi aderente, semitrasparente con stampa animalier nei colori lime, giacchini crop top, esattamente come questo che è proprio di Calliope, io l'ho abbinato ai jeans, sempre di Calliope, ma tu puoi spezzarlo e combinarlo con qualsiasi tipo di look, dai colori basici come bianco, beige, nero, oppure colori ipervitaminici come lime o colori fluo. Trovi tantissime t-shirt che sono già scontate, tantissimi sandali, scarpe, davvero c'è di tutto, Calliope è una puntata che devi fare. E che dire dei jeans, ce ne sono una varietà infinita, dai jeans mam, quindi dritti, ai jeans un pochino più baggy, quindi vita alta e leggermente più bombati e stretti alla caviglia, ai jeans con degli intagli, della ve, quindi delle tonalità molto chiare oppure un pochino più scure, sono tutti scontatissimi, li troverai a 19 euro o addirittura alcuni anche meno. Ci sono anche diversi short abbinati alla camicia in coordinato, ci sono stampe di ogni genere, io ad esempio ho puntato già alcuni pezzi, alcuni cappi con una stampa rigata bianco-nera che è perfetta da abbinare ad accessori coloratissimi, anche accessori fluo. Il contatto per la primavera e l'estate che è alle porte lo puoi trovare da Stradivarius e da Calliope. Fai un giro in questi negozi e combina il tuo look spendendo davvero davvero poco. Ma gli accessori? Accessori, scarpe in primis, prima donna. Prima donna è un brand tutto italiano che offre articoli davvero di qualità ma a prezzi abbordabilissimi. Le scarpe da comprare adesso perché sono già ribassate sono assolutamente le decolletè e le ballerine. Decolletè che comprendono anche gli slimback in diversi tipi di pelle, dallo scamosciato al satene alla pelle lucida, metallica per intenderci, con dei colori gourmet, quindi il fucsia, il giallo lime, il verde smeraldo, oppure anche le ballerine che sono anche ballerine quindi slimback flat con il tacco basso oppure con il microtacco sia virgola o il tacco un pochino più alto. Possono essere allacciate alla schiava oppure con il listino e una fibietta. Ci sono anche diverse scarpe sia decolletè che slimback con degli inserti gioiello, quindi con dei macro e micro cristalli che non puoi perdere a dei prezzi fantastici. Sconti del 20, del 30 fino al 40%, quindi troverai delle scarpe, delle decolletè, delle slimback anche solo a 17€, quindi non è da perdere. Allora fai un giro in questi negozi, quindi Stradivario, Scallio per prima donna. Se hai voglia di fare shopping online trovi i link dei tre negozi nelle descrizioni e adesso direi che siamo giunti alla conclusione di questo video. Ti chiedo di mettermi un like se questo video ti è piaciuto, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao amica fashionista, alla prossima!